Belloni sei stato fortemente voluto e fortemente inseguito dall'Aquila, sei adesso in rosso-blu, ti chiedo subito con l'obiettivo di vincere il campionato. Eh sì, quello è il nostro obiettivo, è lo che la piazza merita, lo che la piazza ti chiede, va bene, pure, va bene, sono troppo felice di stare qua. Un attacco tanto argentino con Banegas che naturalmente conosci. Sì, 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 lo conosco, un grande giocatore, spero di vederlo così già ci conosciamo meglio. Lo scorso anno in questo campionato con Alessandro Bruno a Notaresco ti sei messo in mostra, 13 gol, ma soprattutto tanta continuità e tanta cattiveria in campo. Sì, sì, è stato un grande campionato e ora è l'ora di riconfermarmi qua all'Aquila che questo è l'obiettivo mio e aspetto di aiutare la squadra. Potrebbe essere l'inizio di un progetto all'Aquila, magari in futuro in Serie C con te? Speriamo, speriamo, sarebbe un sogno, speriamo di farlo, devo mettere tutto quello che posso con l'aiuto di tutti i miei compagni per fare questo obiettivo che sia vero. E chi non ti conosce, caratteristiche tue di attaccante in campo? Sono una punta centrale ma posso fare pure le altre, tutto il fronte d'attacco, mi piace attaccare profondità, movimento, protezione, pare e fare gol. L'ultima, l'anno scorso sei venuto qui all'Aquila, proprio nell'ultima di campionato con il Notaresco, c'eri già venuto in Coppa Italia, ma se ti dovessi dire che sensazione ti ha fatto vedere quello stadio così pieno? Bellissimo, la curva bellissima, tutto pieno, una grande coreografia, da brividi il tiro.